Blocco della circolazione ferroviaria e treni che hanno accumulato ritardi fino a 45 minuti. È accaduto alle prime ore di questa mattina lungo la tratta Genova-Ventimiglia con evidenti e notevoli disagi per i pendolari. La causa del blocco è stata la presenza di alcune persone che stavano camminando sui binari fra le stazioni di Alassio e Andorra. Immediato l'intervento della polizia ferroviaria che è riuscita a bloccare un uomo trasferito negli uffici di polizia di Alassio per accertamenti. In base a quanto comunicato da RFI, rete ferroviaria italiana, il traffico è rimasto bloccato dalle 5.55 alle 6.35 e i convogli ferroviari hanno accumulato ritardi fino a un massimo di 45 minuti. Per fortuna comunque la situazione si è poi risolta senza incidenti.